Sì, assolutamente, stavo leggendo questa mail, la sto recuperando adesso, la signora mi scrive qui da Afpra, vive proprio su questo litorale, la signora dice, parla del canalone di scolo della spiaggia di Primerrocche in Corso Italia, da Afpra. Siamo proprio qui dove dovrebbero esserci i turisti che arrivano da tutte le parti del mondo per potersi innamorare di una costa fantastica, per poter praticare magari il pescaturismo e invece cosa incontriamo? Incontriamo i gabbiani che stazionano tra i rifiuti in un sito dove credo che fare un bagno equivalga a prendersi il colera in un contesto di assoluto degrado. Tra l'altro la mail è accompagnata da alcune immagini, come potete vedere, con i liquami che arrivano a mare che ovviamente non lasciano presagire nulla di buono. Un vero e proprio fiume in piena di liquami che arrivano dalla città e che sfociano nel nostro mare di Afpra. Credo che i concittadini dopo quattro anni ormai possano fare i primi bilanci. Credo che qui stiamo rischiando un vero e proprio disastro ambientale. Credo che l'AFP vada allertato, lo faccio con questo video, lo faccio scrivendo all'AFP, lo faccio segnalandolo alla procura perché mi sembra che una vera e propria bomba ecologica sia ormai coinvolgendo l'intera cittadina.